Buonasera Presidente Conte e complimenti. Ha visto che per vincere dovete essere uniti? Senz'altro, da soli non si vince, però si vince con programmi coesi, obiettivi chiari e sicuramente quello che è successo in Sardegna, un passaggio molto significativo e importante, una vittoria straordinaria, per certi versi anche una sfida difficile, se non addirittura inaspettata. Però, ripeto, si vince se si è competitivi. Quindi coesione, alleati affidabili, compagni di viaggio che ti consentano il giorno dopo di poter realizzare gli impegni presi con i cittadini. I cittadini sono stanchi di false promesse. Giusto, ma il Partito Democratico è un alleato affidabile in via permanente? Nel senso, andreste sempre insieme, visti i risultati. Ma guardi, il nostro schema è di dialogare sempre col Partito Democratico. Per quanto riguarda i territori, siccome c'è un'articolazione anche del Partito Democratico, ci sono interpreti anche territoriali diversi, delle volte riusciamo a convergere, elaborare progetti politici seri, condivisi, credibili, concreti, utili per i cittadini, delle volte no. E se non è possibile, una cosa importante è farlo capire a tutti i cittadini. Noi non siamo lì comunque per cercare di creare un cartello elettorale, andare a gestire il potere il giorno dopo e non sapere cosa fare. Noi ci siamo solo a condizioni di massimo rigore. Quindi il cartello elettorale significherebbe sempre a qualunque costo? Sempre a qualunque costo? No. Per noi vale la buona politica, progetti concreti, utili per i cittadini. Lei dice, a proposito di altre alleanze, non voglio compagni inaffidabili. Chi sarebbero? Chiunque abbia dato prova storica di essere inaffidabile e di approva concreta tutti i giorni di concepire la politica a secondo del metodo della propria convenienza partitica o addirittura personale. E soprattutto non consentiremo mai, come Movimento 5 Stelle, una contaminazione tra politica e affari. Per noi sono cose separate. Lei ha fatto un identifitto. Certo di lei adesso a chi mi riferisco? L'ho capito. Ha compreso? Perfetto. Credo anche gli spettatori a casa. Adesso bando alle chiacchiere. Insomma, è chiaro che per esprimere una buona politica bisogna avere dei principi ideali che ci ispirano molto chiari e ovviamente essere conseguenti nell'azione politica quotidiana. Se invece si addestra a sinistra, se ti metti a fare affari e pensi che la politica sia uno strumento per seguire interessi di partito personali con noi, non puoi dialogare. Ma io credo che Renzi non abbia le miniche idee di allearsi con voi. Quindi insomma il discorso non si pone. Allora siamo convinti in due. Senta, mancano tre anni e mezzo alle elezioni politiche. Può esistere una strategia unitaria dell'opposizione? Ma assolutamente sì. La stiamo già elaborando, coltivando giorno per giorno. Il progetto sul salario minimo legale è un primo progetto. Conflitto di interessi. La proposta di legge sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione e le lobby è un secondo obiettivo su cui lavorare insieme. Poi ancora la riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. E poi sulla sanità. Sulla sanità noi stiamo andando verso il barato. Io sono preoccupatissimo. Vengo dalla Sardegna dove, credo una delle ragioni di questa svolta, c'è proprio una sanità disastrata. I cittadini non possono attendere, come in Sardegna, 500 giorni per un esame diagnostico. Non è questo il sacro santo. 150 chilometri per un esame, una visia pediatrica specialistica. Però è quello che sta succedendo in tanti territori, anche qui nel resto dell'Italia. Non lo possiamo permettere. Però guardi, qualche giorno fa al suo posto c'era il Presidente del Consiglio che ha detto che noi abbiamo aumentato oggi la spesa sanitaria. Di 3 miliardi? Sì. Sa cosa significa? Definanziare. Perché con quei 3 miliardi il Presidente del Consiglio deve spiegare agli italiani che non ci copre neppure l'inflazione e gli aumenti dei costi di gestione. Quindi gli investimenti in sanità dovevano essere di gran lunga, maggiori come abbiamo fatto in pandemia. Quindi quando dice ho messo 3 miliardi in più significa assolutamente definanziare. Significa che dei cittadini non avranno mai una visita. Il 16% dei cittadini sardi ha rinunciato alle cure. In Italia la media inizia a diventare elevata di chi addirittura rinuncia alle cure. Quindi venire qui e dire ai cittadini ho messo 3 miliardi in più significa prenderli in giro. Ha 25 secondi per dire. Lei ha sposto su lo che avrebbe fatto. Quanti soldi avrebbe dati alla sanità e dove li avrebbe presi? Innanzitutto non avrei certo concentrato sugli investimenti militari. Ma lei lo sa che dopo 8 invidi aiuti militari noi a differenza della Germania e di altri paesi non abbiamo ancora detto quando abbiamo speso che armi abbiamo mandato, che tipologia di armi. Perché è tutto segretato? Diciamolo, mettiamo i soldi su pianto. Lei sa che è molto, molto, molto meno di tutti gli altri. Ma come lo fa a dire scusi se è tutto segretato? Ma io dico così, evitiamo la democrazia parlamentare o no? Possiamo sapere quali sono gli investimenti destinati per aiutare? Adesso a prescindere che noi siamo contrari e lo sapete siamo per il negozio di pace possiamo dire ai cittadini che ci sono delle priorità e questo governo sta privilegiando alcune priorità anziché altre? Approfondiamo a porta a porta. Intanto grazie Presidente.